Amica e amici di Volonbrite, siamo qui a Borgo Campidoglio per l'edizione 2022 del progetto MAU4ALL, visite inclusive al Museo di Arte Urbana. Siamo in compagnia del Presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re. Che impressione ti fa questo progetto? Quali sono le tue sensazioni? Questa iniziativa va nell'indirizzo di una città che è quella che vogliamo, cioè una città inclusiva, sempre aperta, attenta a tutte le situazioni, a tutte le fragilità, ma fragilità che devono diventare appunto non motivo di esclusione, ma motivo invece di partecipazione, di socialità e di appuntamenti importanti, anche divertenti, interessanti come questo tour, questa visita guidata. Le disabilità sono molteplici, si configurano in diverse situazioni, forme e quindi ogni disabilità e ogni situazione è un po' a sé e anche la risposta quindi delle istituzioni deve essere una risposta attenta, inclusiva, accessibile, non esclusivamente alla questione delle disabilità fisiche o della pavimentazione in un qualche modo come risposta, ma a tutte le disabilità, quindi anche a quelle sensoriali. La Circoscrizione 4 è un territorio dove appunto siamo davvero coinvolti e siamo pieni di risorse culturali, sociali e siamo davvero fieri di questo perché sono davvero molte e quindi è un orgoglio davvero della Circoscrizione, dei quartieri di San Donato, Campidoglio e Parella. Siamo felici che il Museo di Arte Urbana sia qua in Circoscrizione 4 e con loro poter sviluppare insieme a tutto il quartiere il futuro dei prossimi anni. Siamo in compaglia di Matteo Mereu, presidente dell'Associazione dei Sardi in Torino, Antonio Gramsci, che ringraziamo perché ci ha offerto la possibilità di concludere la visita guidata accessibile del progetto MAU4ALL qui nella sede dell'Associazione con una fantastica degustazione enologica di prodotti sardi con il sommelier Leonardo Porcu. Allora Matteo, so che la vostra associazione è impegnata molto nel sociale sul tema dell'inclusione. Quali sono i vostri punti cardine per quanto riguarda queste tematiche? Noi stiamo lavorando molto, intanto grazie a voi per aver partecipato e accettato l'invito, stiamo lavorando molto in collaborazione col territorio sullo sviluppo di questo pilastro sociale all'interno delle attività del Circo. Ormai da più di un anno seguiamo il progetto SalvaCibo, che è un progetto che realizziamo insieme a Ecco delle Città. È un progetto sostanzialmente che riguarda il recupero dell'invenduto dei mercati generali, che viene distribuito in vari punti di distribuzione. Noi siamo uno di questi e noi ogni giovedì lo distribuiamo a gente che ha bisogno, ripuliamo la frutta e la verdura e la diamo. Sempre all'interno di questo filone collaboriamo con un'altra associazione che si chiama Volere la Luna, per cui realizziamo dei pasti per altrettante famiglie che sono in difficoltà, al quale diamo anche la frutta che recuperiamo dal mercato generale. Oltre questo abbiamo sviluppato una collaborazione e una progettualità con Arci Torino, per cui dall'anno scorso, ogni lunedì della settimana, per tutto l'anno, ospitiamo uno sportello sociale rivolto a situazioni in questo caso di difficoltà economica sociale. Ci piace avviare in queste settimane questa collaborazione con Mau su questi progetti perché è una parte che seguivamo un po' di meno e ci consente di avviare nuovi canali e di nuove collaborazioni. Fa piacere poter sentirsi utile e essere a disposizione della cittadinanza anche per chi vuole cominciare a vivere il proprio quartiere o la propria città in una maniera innovativa. Sempre nel filone delle politiche sociali abbiamo sviluppato l'anno scorso un progetto di educazione per adulti, si chiama la Scuola delle Mamme, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e il CPA 3. È un progetto importante perché garantisce alle mamme che partecipano a quel progetto di sostanzialmente alfabetizzazione dell'italiano, della lingua italiana, di poter portare con sé i propri bambini perché ci sono dei tirocinanti dell'Università e viene garantito un servizio d'asilo. Questo perché noi consideriamo sempre il fatto dell'inclusione sociale uno dei pilastri della nostra associazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti.